E' l'erede spirituale di Licio Gelli. Era stato proprio l'ex venerabile, in una lettera inviata un anno fa, a indicare come suo successore il generale Bartolomeo Constantine Savoio, gran maestro della gran loggia nazionale romena 1880. Il generale, oltre a leggere il testo della lettera in cui Gelli gli affidava la sua eredità spirituale, ci ha tenuto anche a sottolineare come l'ex venerabile non sia mai stato condannato per le oscure vicende italiane alle quali era stato accostato contro di lui per la sua opera di contrasto del comunismo o se sarebbe scagliata una vera e propria opera di disinformazione che poi avrebbe abbracciato l'intera massoneria, guardata sempre di più con sospetto dopo lo scandalo della loggia P2. Questa idea della loggia propaganda 2 è, a un certo momento della storia, è diventata contro l'azione dei circoli, circoli di estra ma sinistra, circoli comunisti, anche circoli di quelli che sono stati spinti dai servizi comunisti dei paesi del col tempo. E poi ha cominciato questa straordinaria programmazione di disinformazione anni 80, anni e anni di processi in quali il Conte Liceo Gelli è assolto di tutte le grandi, tutti i grandi capi di accusa è assolto. Di più, il Stato italiano è condannato al risarcimento nel 1995. Allora, qual è la verità? Se prendiamo internet, non vediamo una sola voce, tutti sono cattivi, tutti sono... Come si possiamo pensare che duemila persone che hanno l'elite intellettuale, commerciale, politica, economica, giuridica dell'Italia, dell'Europa, sono tutti? Come allora? Impossibile. Era una grande operazione che è riuscita. Il Partito Democratico è sparito e la mazzoneria italiana, il solo paese nell'Europa, sono 50.000 mazzoni, non si può più parlare senza essere vergognoso.